Alla fine ha prevalso il criterio delle preferenze, ma anche quello della forza politica e dei rapporti diplomatici costruiti in questi anni. Carmelo Stanziola, sindaco di Centola, ha ottenuto ufficialmente l'incarico di vicepresidente della provincia di Salerno. Ad annunciarlo è stato il presidente, Michele Strianese, che ha spiegato i criteri della decisione avvenuta subito dopo l'incontro in maggioranza tenutosi lunedì. Il consigliere Carmelo Stanziola, addetto Strianese, è il primo eletto del Partito Democratico ed è stato in assoluto il consigliere più votato. Ma per il presidente non è stata solo questione di numeri. Stanziola ha lavorato bene in questi anni, riuscendo a far convergere consensi su di sé e dimostrando quindi in questo momento una certa forza politica. In sede di riunione di maggioranza, ha confermato Strianese, in maniera unanime tutti i consiglieri dei partiti hanno espresso parere favorevole alla sua candidatura. La condivisione di questa scelta quindi ne rafforza la valenza politica. Il presidente fa riferimento anche alla volontà di rappresentare così tutti i territori della vasta provincia, mettendo alla guida dell'ente un sindaco di uno dei comuni dell'area nord, come appunto Strianese, che ha la guida di San Valentino Torio, e un sindaco dei comuni dell'area sud, come appunto Stanziola, primo cittadino di Centola. Influente anche il rapporto fiduciario instauratosi con Carmelo Stanziola, ha proseguito il presidente, si è stretto da subito un forte rapporto sinergico. Abbiamo fatto squadra, lavorando insieme, per dare ai nostri territori risposte concrete. Gli auguro buon lavoro e lo auguro al nuovo Consiglio provinciale, perché solo insieme potremo costruire un biennio di sviluppo per tutta la provincia. Soddisfatto per le parole del presidente e per i criteri non solo numerici che hanno portato ad una vicepresidenza condivisa con tutta la maggioranza, e il diretto interessato, che è già pronto a mettersi al lavoro. Ho rapporti diretti con gli amministratori, ha detto Stanziola, e sono pronto ad ascoltare i territori su temi nodali, come viabilità ed edilizia scolastica. Inoltre continuerò ad occuparmi delle vicende dell'aeroporto di Ponte Cagnano, un'infrastruttura fondamentale per la nostra provincia, soprattutto per l'area sud. Proprio domani prenderò parte a un tavolo tecnico che si terrà alla sede legale presso la Camera di Commercio.